Questa è una intro provvisoria Quindi dobbiamo rifare tutto in pubblica, no? Vabbè, certo Beh, al massimo facciamo partita di gruppo Beh, è un bel gioco delle armi Ah, ma sono nei treni? Sì, sì, sì Sì, cazzeggiamo Giusto per fare il culo a Gabri Sì, giusto per fare il culo a Lori Nuke, nuke Oh 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 Oh, basta che metti partita di gruppo, eh No, non il gioco delle armi E' un bel della pietra Oh, bella Oh, non è un po' di tutta l'erba Oh, non è un po' di tutta l'erba Se la vuoi fare una prima kill partner, ma... invece... Quanti punti ho avuto? Quanti punti ho avuto? Eh? Quanti punti? Non lo so, non ho cambiato Vaffanculo Gabri de Marta Di chi è il cane che sta soffrendo? Le pene dell'inferno Vaffanculo Vaffanculo Bella Ti odio, Gabri, ti odio Grazie Davopo, vaccatelo Oh, vaffanculo Oh Wow Ah, anch'io Assolta Capo, vaffanculo 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 C'è lag, ma c'è lag e si perchè sta usando la posta e la posta e la posta uuuh headshot mi piace mi tommo a cavi mi piace mi tommo a cavi ma io sono ultimo io sono ultimo allora eri il primo ma tommo a casa un po' di gente tommo a cavi tra voi mamma mia gabry ho anticipato proprio c'è c'è cosa lì oddio dove t'ha passato il tomo chi le due loro chi le due loro vieni qua gabry gabry ma perchè vai dentro io sono fuori no ho tirato 10 conternati in un secondo un secondo oh bello grazie maledetto ballis guarda ballis se non c'è da uuuuhh scontellatelo 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 fa qualcosa cosa madonna che laggata basta si si è a 100 no no non credo no 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 c'è no no hm ma ricominciato bella capri, bella, bella, bella vaffanculo, quando sto a zero è bella eh ovvio vai via porco prima fa pena ho una mia impressione, ma la sta laggando cazzo, ah ma entra la gente no, potevamo fare una scontina due contro due ha abbandonato la partita si o boh, ma ancora, ma la storia ha rotto il cazzo però ma non lo uso mai tomo wakato eh, tomo wakato eh, tomo wakato eh, tomo wakato tomo wakato tomo wakato nonchè te lo avete passato quel tavolo anche a te lo avete passato se ti perde stavamo wakato stavamo wakato saltela no 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 ah ok, non mi hai umiliato no eh sì troppo bello se no vabbè ha vinto l'ho e vaffè gabrito ma wakato gabrito ma wakato dovrebbe rimbalzare sto cazzo di tomo e invece no mamma mia che vittoria eh, andate a fanculo no, c'erano davanti mamma mia d'avete passato quel tavolo mamma mia mamma mia che stronzo ah, che vero vero se se che c'è sto cosino finquiglioni ah, che soddisfazione vincere piezza di tappi un po 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 non lo faccio bello certo nooo se li gioco dalle armi vai così una cosa bellissima e da poco più di outlook maaa maaa ma lagga lagga ma da poco ha chiuso ok va bene si si è fantastico ok ottimo è sicuro di averlo chiuso grazie mamma luca no lori non luca ah beh si lori e luca brava brava va bene così tu qua sta di fermo mamma mia sei lost si vede cazzo si si vede un bel po' dove sono tutti venite qua porca puttana vaffanculo non farti uccidere gabri ma zitto ma forticello sveglia tu forse no è quello il piano vaffanculo ride lui no porca puttana solo perchè è lost grandissimo ti ho bucchino mi ha tirato fuori l'arma nooo dai sono ancora la pistola che palle si lo sai e stavo per quittare guarda nooo gabri quittare dov'è mai la soluzione no no si risolvono tutti i problemi vaffanculo ho vaffanculo mi ha recuperato vaffanculo con un colpo ma gabrile anche tu cosa fai ma tanto da lontano non lo becco mi sluggeggia mi sluggeggia tutto ma mazzalo Gabri no ma mi ha ucciso vabbè lui è con le pistoline di pregatrice cazzo io sono costato le ticette di merda un momento time di Gabri oh basta Gabri cioè Gabri ti stai a fomentare un po' troppo oh ma guarda come lagga ma perché cazzo lagga ma io non capisco vabbè come fraglione di Gesù dai dai vale è stata lagga? no ah interessante guarda guarda neanche riesco a guardarlo che mi uccida perché io ce lo sguardo sex allora ammazzo con lo sguardo che se ecco il cecchino quel bèzzo di merda si ecco il cecchino si ecco il cecchino e ora ecco il lanciarazzi vero? ecco il lanciarazzi vero? ecco lo saraazzi eh eh bilioni eh bilioni eh siamo in tre porca me no light marker no non mi uccidi eh no toffa l'uccido insomma ci metto che palle no 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 non farlo eh 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 pronto ora mi apposto giuro che mi apposto di sniper da qua sotto sega eccolo in testa ma che cazzo dici? te lo giuro vabbè io non riesco a mirare allora eh vabbè no vabbè ti fa uccidere cioè proprio sei nabbo che vittoria schiacciante vabbè vaffanculo guarda Gabri che è proprio cioè gli sta davanti vuole farsi uccidere come i nabbi ma cosa? come i pro caso eh sì